Com'è la nuova carrozzina? Più facile o difficile spingere? La fatica è sempre la stessa. Ah si? Eh si. No è più semplice. Più semplice? Si. Ah bene. Credo sia anche più leggera. È di carbonio eh? Si. Bravo come fa... Per te è più comoda? Si. Eh? Si. Si. O anche qualche cucina. Eh vabbè metto un cucina in più al limite. Anche il lenzuolo. Allora andiamo lì perché io voglio farvi vedere un video col sole così. Eh si. Però presto. Si è lì. Allora si è lì.